Ciao ragazzi, come state? Allora, scusatemi per quanto riguarda la mia faccia che è davvero spatta Praticamente sono super stanca Però voglio fare questo video perché da tanto che non giro dei video Più o meno una settimana Allora, volevo fare due chiacchiere con voi E tra l'altro, non so se vedete, ma praticamente Ho cambiato colore di capelli ancora Cioè, io veramente sono pazza da legare Anzi, matta da legare Ma praticamente Io avevo... Scusate se guardo sempre di là Ma io sento una specie di fischio Non so se voi lo sentite, ma Praticamente sento una specie di fischiettio Scusatemi se guardo lì e magari vi guardo con gli occhi storti Ma non riesco proprio a capire come caspita devo guardare Vedo un sacco di persone che sono quasi incapaci Vedono tipo drittissimi Sembra quasi quasi che vi guardino negli occhi Quindi io non ci riesco, sono incapace Veramente Allora Cosa è successo? A parte che sono qui con due porse dell'acqua calda Una che mi sta scoppiando Non so se vedete, ma praticamente scoppiata 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 Molto bene Questa è la mia E questa è del mio fidanzato E praticamente Sono qui con due porse dell'acqua calda Io in inverno sono tipo Una drogata di porse dell'acqua calda E poi Qui ho una tisana Che amo queste tazze Che sono delle tazze di Ikea Non so se mi sentite bene al microfono Microfono Non so se vi ricordate Ma avevo i capelli neri Sinceramente mi piacevano molto Quei capelli neri Però Erano davvero troppo troppo neri Io di base comunque sono scura Perché ho i capelli castani Castano scuro Però Quei capelli erano Nerissimi E poi Siccome siamo in inverno In inverno comunque Siamo bianchi Sembrava un cadavere Veramente Anche se mi piacevano molto Devo dire la verità Poi Io Avevo fatto la scema Come al solito Che ogni volta No A questi capelli Li devo per forza Stressare E Praticamente Qui sotto Praticamente Ho usato la piasta A 230 gradi E Ho bruciato Tutti i capelli Ma non è che li ho Bruciati Li ho proprio Cotti Cioè praticamente Avevo un pezzo Tanto di capelli Bruciatissimo Che io Ho fatto 2000 maschere 2000 Litri di balsamo Però comunque Erano ormai Andati E quindi Sono andata Dall'estetista Dall'estetista Forse devo andare Dallo psicologo Sono andata Dalla parrucchiere E li ho tagliati Infatti Come vedete Sono Vedete Sono tagliati Prima mi arrivavano qui Questo fatto Che io mi taglio I capelli E per me Una potta In fronte Praticamente Che cosa Ah allora Vado un po' A mettere Questi correttori Di Wicon Che stanno Praticamente Finendo Io Sto finendo Un sacco Di correttori Infatti Vabbè Io sono una Che ama Il trucco Cioè Io comunque Bene o male Il trucco Non riesco A smettere Di comprarlo Cioè Mi limito In alcune cose Ho imparato A limitarmi E quello che non uso Non compro Però Sto cercando Di smaltire Le cose Aperte Che ho Cioè Nel senso Le cose Quasi finite Cerco di Consumarle E E quindi Così sto facendo E comunque Praticamente Sono andata Da sto parrucchiere Che mi ha fatto Il taglio Che poi Mi ha fatto Un taglio scalato Che non si capisce Cioè ragazzi Sono ingestibili Veramente Sembra Sembra una pazza Le mani qua Sono Tipo Super corti Cioè Che schifo E poi Sempre lui Me li ha schiariti Infatti Come vedete Sì ok Me li ha schiariti Però sono proprio A chiazze Arancioni Cioè Che sto schifo Cos'è Cioè Io non mi riesco A vedere Con i capelli Ramati Veramente Ok È un lavoraccio Perché Comunque Togliere Il nero È molto Molto Difficile E questo Lo so bene Però Questo tutto Che si vantava Tipo Diego Dalla palma Cioè Non so Quale Chi si sentiva E male Tipo Frank Che ne so Ma Sti capelli Fanno cagare E se vi dico Quanto ho pagato Mi date Della stupida Perché io Avrei Dovuto Alzarmi Cioè Me ne sarei dovuto Andare Dal negozio Di corsa E Poi Quel giorno Ero Molto Nervosa Perché Ero Andata Dalla mia Parrucchiera Cioè Dalla mia Parrucchiera Chia Saba Alla fine Ero andata Dalla parrucchiera Che a volte Diciamo Vado Con più Frequenza Anche se io Sono una di quelle Donne che odia Andare dai parrucchieri Cioè Un sacco Un sacco Di persone Ci vanno Tipo Una volta A settimana Dal parrucchiere Io Odio Per me È proprio Uno stress Andare dal parrucchiere Perché Mi scoccio Tantissimo Comunque Praticamente Io era andata Da questa Perché Diciamo che Lei è economica Se mi seguite Su instagram Già Sapete Cosa sto per dire E comunque Io era andata Da lei Perché È economica E so che Si prende poco Per fare capelli E siccome Io non sono La via di Belloscuni Allora Ho detto Vado da lei Anche perché Comunque Sta sotto casa E quindi Stavo Per andare Da lei Allora Poi comunque Di solito Lei la schiaritura Me la fa Cioè Me la fa Abbastanza Bene Allora Praticamente Sono andata E Erano le 11 E lei Mi dice No Guarda Cioè Non me lo dice Neanche lei Me lo dice Tipo la commessa Che lavorava da lei Mi dice No guarda Non so Se riesco A farti La schiaritura Non mi facevano Capire niente Cioè Non mi facevano Capire se io Dovevo rimanere Se me ne dovevo Andare Cioè Erano tipo Indecise Così Scendevano Dalle nuvole E Allora Io dico Vabbè Nessun problema Me ne va Dove Vengo Un'altra volta E allora Loro E Loro tipo Che sparlavano Perché io Poi avevo detto Che me ne andavo Cioè Ma tu Prima mi fai entrare E mi dici Che non c'è posto Cioè Che non Non me li puoi fare Poi mi sparli Dietro Perché io Me ne vado Allora si può sapere Che cosa devo fare Io mi sono arrabbiata Capisco tutto Forse Magari Hai i tuoi tempi Devi chiudere Il negozio Però Per la schiaritura Ci vuole un po' di tempo Però Capisco tutto Però nel negozio C'eravate solo tu E la commessa E una persona Che si stava lavando i capelli Quindi penso che il tempo Per me ce l'aveva E allora Io ho detto No vabbè Non ti preoccupare Buon lavoro E quindi Me ne sono andata Cioè Ragazzi Io veramente Capisco tutto Però ci sono modi e modi Per dire le cose E io Appena sono entrata E ho detto Che dovevo farmi La schiaritura Dei capelli Ho sentito Proprio Ve lo giuro Ho sentito La commessa Cioè la commessa La proprietaria Che si lamentava Come se tipo Io ero Una pallosa Che stava lì Per rompere le palle Che stavo Perché mi dovevo Schiarire i capelli Con le mie fissazioni Insomma Perché lei lo sa Che io Ho sti Ho sti Giramenti di testa E voglio cambiare Da un momento all'altro Ma tu fai la parrucchiera Cazzarola Allora Stai zitta E fai il tuo lavoro Cioè Allora io Se viene qualcuno Dove lavoro Mica lo posso cacciare E che diavolo Cioè Comunque Lasciamo perdere Comunque Sto mettendo un po' Di questa terra Qui Che è della Makeup Revolution Come vedete Anche questa La sto finendo E E niente Quindi adesso Mi vedrete Per un po' Di video Con questi capelli Però Domani Li cambio di nuovo Finirò per perdere i capelli Questo è poco Ma sicuro Poi vado Poi vado a prendere un po' Di questo Ok Ok Sto cosa di Di Too Faced Va un po' schifo Non colora Vedete Costa pure abbastanza Vabbè Giusto per darmi Un po' di tono Ok Già è meglio così Perché prima Sembrava un cadavere Che camminava Poi Voglio andare Niente Il mascara Già lo tengo Quindi non lo metto Comunque Ho usato Questo qui Nuovo Della Pupa Che è La Explosive Lashes Tra l'altro Mi devo rifare Lo smalto Ma io Ultimamente Mi sto mangiando Le ucchie Cioè Faccio proprio schifo Per l'autostima Ma io di solito Quando Ho dei momenti Un po' Brutti No Momenti un po' Stressanti Della mia vita Voglio cambiare Voglio Dirmi diversa Non lo so Io perciò Faccio sempre Mille cambiamenti Con i capelli Perché mi scoccio Di vedere sempre La mia stessa faccia Con gli stessi capelli Non so se capita Pure a voi Adesso Voglio andare Ad utilizzare Questo Di Essence Che è Un glow To go Praticamente È una palette Di illuminanti Sempre se riesco D'aprilla Qualcuno sa Dove caspita Posso trovare La palette Di Essence La OO palette Nell'edizione Natalizia Perché io Non la trovo Da nessuna parte Su nessun sito E nessun OBS Quindi Aiutatemi Grazie Poi Vi volevo Proporre Una cosa Allora Praticamente Siccome Ho visto Che adesso Va molto Ci sono un sacco Di ragazze E ragazzi Che lo fanno C'è un sacco Di youtuber Molte persone Hanno anche Ricevuto Un sacco Di critiche Per questa Per questa Cosa E so benissimo Che Ci può stare Perché Molte persone Non condividono Questo Come dirvi Quest'ottica Però Secondo me È una cosa Comunque Molto Molto Carina Non lo so Allora Adesso vi spiego Insomma Sapete tutti Che ci sono Le liste Amazon Praticamente Tu Crei Una lista Amazon E poi La inserisci Ti scegli Quello che ti va Di mettere In questa lista Quello che ti serve Quello che magari Ti piace Crei una lista De desideri Su Amazon E Molte persone La condividono Su Youtube In modo tale Che i loro Followers Comunque I loro iscritti Più cari Quando vogliono Fare una donazione Oppure Vogliono fare Dei regalini Al proprio Cioè Ai Youtubers Che seguono Che sia Natale Che sia un compleanno Oppure di Spontanea volontà Scelgono Da questa lista Quello che gli piace E glielo Regalano Non so come dirmi Ho pensato che Questa cosa Può fare È una cosa carina Cioè Io non la trovo Una cosa Poi così brutta Cioè Uno mette la lista Con le cose Che gli piace Se ti va Di prendermela Se non ti va Di prendermela Va bene Lo stesso È Un modo carino Secondo me Quindi Io ancora Non la metto Però Se vi sta bene La inserisco Sotto questo video Oppure La inserisco In uno Dei prossimi video E voi magari Ci date un'occhiata Fatemi sapere Se va bene Così La metto E poi ovviamente Siete libere E liberi Di fare quello che volete Però Siccome io sono una persona Che di coce Mi piace essere chiara Voglio prima sapere Se vi può dare fastidio Oppure no Così Non la metto E niente Tanto Comunque penso che non tolgo niente a nessuno Cioè non è che io sto chiedendo Chissà che cosa Sto dicendo Ragazzi Io ho creato una lista Amazon Sì Vi va piacere Magari ogni tanto Però Non voglio che la prendete come Cioè non voglio che mi criticate Per questo Perché secondo me Non c'è niente da criticare Perché Lo fanno tutti Cioè Non è che Che mo' so io Che so uscita così Di testa Non di niente Questa è la Mi piace davvero tanto E di Essence Costa 4,95 euro Adesso Però Comunque io mi trovo Molto molto bene Con le cose di Rihanna Mi piacciono molto Ok Questa questa È molto Confortevole Sulle labbra Mi piace tanto Allora Io Come vi dicevo Ho pensato Di fare così Nel senso che Questo colore Mi dà molta luce Al viso Però Secondo me Io non mi sento bene Proprio come stessa Ragazzi Veramente Mi sembrerà stupido Però è così Quindi Mi levo Devo levare Assolutamente Sto colore Dei capelli Voglio essere Tipo così Vedete Come sono qua Qua Però su tutti i capelli Non ho Sto schifezza Di dorato Che veramente Mia nonna Proprio Levati E Quindi Dopo Aver fatto questo Io vi giuro E vi prometto Che la smetto Con questi capelli E li lascio Riposare Almeno per Due Tre anni No Due Tre anni Anche no Però Per un annetto Sicuro Io lascio Riposare I miei capelli Anche due Perché Li sto Stressando Come non mai E Ho un capello Molto forte E sono molto Fortunata Perché Sennò A quest'ora Già Ero calva E E niente Vi abbraccio Vi mando un bacio E Vi voglio Bene E sono contenta Che ogni volta Ci siete sempre Ciao 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 SignЭ Ciao Ciao Grazie a tutti